La famiglia Messi è stata minacciata. In Argentina esplosi colpi di pistola contro un locale. C'era anche un biglietto. Avete visto cos'è successo? Sono ore di tensione e apprensione in casa Messi. La famiglia della Pulce, infatti, ha vissuto una vicenda molto spiacevole. La situazione per adesso non sembra comunque migliorata. Un grave gesto intimidatorio che ha preoccupato tutti. Ecco cos'è successo. Un supermercato di rosario appartenente alla famiglia di Antonella Rocuzzo, moglie di Leo Messi, è stato attaccato all'alba di giovedì con 14 colpi di pistola. I malviventi poi hanno lasciato sul posto anche un bigliettino con una minaccia diretta proprio al campione del mondo. Messi, ti stiamo aspettando. Yavkin è un narco. Non ti proteggerà. C'era scritto. La polizia, ovviamente, ha iniziato ad indagare e a effettuare le perizie del caso. Pablo Yavkin, nominato nel biglietto, è il sindaco della città di Rosario, che ad alcuni media locali ha dichiarato. La famiglia Rocuzzo è molto preoccupata. Vorrebbe soltanto lavorare. Voglio qui il presidente e il ministro della sicurezza, oltre al governatore. Rosario, negli ultimi anni, è diventata una città molto pericolosa, con una forte presenza di criminalità organizzata legata al traffico di droga.